Quali sono le città italiane con la migliore qualità della vita? Secondo le ultime indagini, sarebbero Bologna, Bolzano e Firenze le città in Italia in cui si vive meglio. Quali sono i criteri di valutazione e cosa rende queste tre città le migliori in assoluto in cui vivere? Gli indicatori presi in esame sono circa 90 suddivisi in 6 macro-categorie. Ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, punto e virgola demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Sulla base di queste categorie sono stati effettuati degli studi statistici in ogni singola città italiana, durante tutto il corso del 2022, nella speranza di stilare una stima ragionevole delle migliori città, quelle in cui c'è la migliore qualità della vita. Analisi della vivibilità secondo bambini, giovani e anziani. Lo studio condotto nel corso dell'anno 2022 si è basato principalmente su tre fattori, anzi su tre fasce d'età, bambini, giovani e anziani. La fascia di età che riguarda i bambini è quella che va dai 0 ai 18 anni, in questo caso, le città sono state valutate in base al tasso di fecondità, alla presenza di giardini scolastici o pubblici ben attrezzati, al numero di asili nido presenti sul territorio e alla presenza di pediatri che operano in città e in provincia. Stando ai risultati di questa fascia, la città con la qualità della vita migliore per i bambini è sicuramente aosta, seguita da Arezzo, Siena e Firenze. In cima anche Udine e Oristano, grandi escluse in questo caso le città del sud, che sembrano non avere i requisiti adatti per definirsi città ideali per un bambino fino a 18 anni. La fascia di età che interessa i giovani, all'interno di questa ricerca, è quella che va dai 18 ai 35 anni. In questo caso, lo studio si è basato sul quoziente di nuizialità, l'età media del parto, il numero di amministratori comunali under 40, il canone di locazione, l'imprenditorialità giovanile, la presenza di bar e discoteche accessibili a tutti e il tasso dei laureati. La città con la qualità della vita migliore per i giovani è, quindi, Piacenza, seguita da Ferrara, Ravenna, Vercelli e Cremona. Ottime anche Forlice Sena e Modena, ha conferma che l'Emilia-Romagna è uno dei posti migliori in Italia, sotto tanti aspetti, inclusa la qualità della vita, soprattutto per i giovani. Passando alla terza fascia, quella degli anziani, la città con la migliore qualità della vita è certamente Cagliari, seguita da Bolzano, Trento, Roma e Nuovo. Qui è dove gli anziani hanno maggiori aspettative di vita, dove si trovano i migliori medici specialisti e dove si registra una percentuale di infermieri elevatissima. Dalle grandi città alle realtà più contenute. Le grandi città perdono colpi, così come buona parte delle città del sud. Se in passato vivere nelle metropoli rappresentava motivo di vanto e speranza di un futuro migliore, Oggi sono le piccole città del nord Italia a promettere una qualità della vita elevata, sotto tantissimi aspetti. Come si arriva, quindi, alle tre città sopra citate. Perché Bologna, Bolzano e Firenze sono in assoluto le tre città con la migliore qualità della vita in Italia. Perché sommando determinate caratteristiche, emerge facilmente che le tre città sopra citate siano le più vivibili in generale, Anche, rispetto a città più avanzate dal punto di vista tecnologico, ambientale o logistico. Il Trentino Alto Adige, in generale, si conferma una delle regioni con la migliore qualità della vita in assoluto. Se Bolzano, infatti, guadagna un rispettabilissimo secondo posto in graduatoria. Trento si trova poco più avanti, appena al quinto posto. Da nord a sud, pregi e difetti di un paese complesso. Bologna si conferma prima per la quinta volta negli ultimi trent'anni, con un record per ciò che riguarda il tema demografia, salute e società, seguita da città come Modena, Roma e Firenze. A Roma, però, non bastano questi primati per potersi guadagnare un posto decente nella classifica. Come già accennato, infatti, le grandi città tendono a perdere punti in questi anni per via del cosiddetto caro vita che ha reso le metropoli dei posti meravigliosi, dal punto di vista culturale e lavorativo ma altrettanto faticosi quando si tratta di stile di vita e semplice sopravvivenza. Il sud, invece, si riconferma ai piani più bassi della classifica, soprattutto per ciò che riguarda voci come ricchezza e consumi, o cultura e tempo libero. Il mezzogiorno italiano rimane una porzione complessa del nostro paese, che fatica a rialzarsi nonostante le buone intenzioni, aumentando così il divario tra nord e sud.